A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale. Lo spazio giovani di Oristano oggi ricorda Vincenzo Curtale, morto da eroe la scorsa estate dopo aver salvato la vita a un bagnante in difficoltà. Studenti e volontari dell'associazione a lui intitolata, insieme per chiedere a comuni, costiere e regione, mari e spiagge molto più sicure. Sentiamo. Tornio di calcetto di street social cage, esibizioni di ginnastica artistica e dalle 18 fino alla mezzanotte musica. Il primo memorial Vincenzo Curtale è entrato nel vivo. Per tutta la giornata lo spazio giovani di Sarodia e Oristano spalancherà le sue porte. Dai piccoli alunni delle scuole elementari agli studenti delle superiori, passando per quelli delle medie, tutti saranno coinvolti dall'associazione volontariato intitolata Vincenzo Curtale. Il giovane che la scorsa estate ha perso la vita dopo aver salvato un bagnante in difficoltà nel mare di San Giovanni di Sinis. Amici, conoscenti e semplici cittadini si sono uniti per lanciare forte e chiaro un messaggio. Ci sentiamo in dovere di prendere in mano un po' la situazione in una parte carente, visto che le nostre coste tutti gli anni sono flagellate da queste morti. Abbiamo preso accordi con l'Associazione Nazionale Salvamento di Genova che ci darà un ottimo contributo tecnico, la quale predisporrà dei piani di sicurezza che dovranno essere applicati dai vari comuni riglieraschi. Chiaramente questo seguendo tutti quelli che sono i parametri previsti dalla regione. Dalle parole si chiede di passare ai fatti, l'associazione vigilerà perché gli enti preposti si adoperino per rendere più sicure le cose dell'Ulistanese. Il compito quindi importante sarà quello da parte nostra di monitorare questa attività. Questa attività che quindi cercherà, questo è il suo fine principale, di ridurre, se non è possibile minimilare, tutte queste morti che ogni anno quindi si ripetono quasi sistematicamente sulle coste uristanesi. I volontari si stanno impegnando in ogni modo per far crescere e lavorare al meglio l'associazione. A dar loro una mano anche gli studenti dell'Istituto d'Arte di Oristano realizzeranno dei disegni per crearne il logo. La giornata di oggi servirà anche per la raccolta fondi attraverso la vendita di gustosi prodotti tipici del territorio. Ognuno a suo modo dunque potrà dare il proprio contributo. E passiamo alla cronaca. La polizia di Oristano ha denunciato una 47enne di Santa Giusta per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Durante i servizi di prevenzione gli uomini della squadra mobile diretti da Dario Mongiovì hanno trovato l'uomo in possesso di 10 grammi di marihuana. Successivamente hanno perquisito un casolare di sua proprietà dove hanno trovato altri 20 grammi di stupefacente e scoperto una sorta di serra rurale dove l'uomo coltivava tre pianti di marihuana alte 40 centimetri. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Roberta Sanna, libera professionista di 58 anni e la nuova presidente del Soroptimist International Club di Oristano, l'imprenditrice, succede a Paola Meconcelli e resterà in carica per i prossimi due anni. Il comune di Oristano apre uno sportello per offrire a cittadini e associazioni le informazioni utili a orientarsi nel complesso mondo degli strumenti comunitari. Ieri la presentazione al pubblico, sentiamo l'assessore alla programmazione Giuseppina Uda. L'intento è proprio quello di cogliere dal confronto tra la nostra esperienza che è iniziata solo da qualche mese e l'esperienza di altri che invece operano sul territorio ormai da diversi anni, motivo intanto di miglioramento ma anche eventuali occasioni di collaborazione e di confronto, sempre per poter rendere i servizi che offriamo migliori, più efficienti, più utili all'interesse sia delle persone che si avvicinano ai nostri uffici che sono persone fisiche, cioè persone che vogliono giovani in prevalenza o persone che hanno perso il lavoro e che vogliono conoscere le nuove opportunità di finanziamento, soprattutto di fondi europei ma si rivolgono anche a famiglie e soprattutto ad associazioni. È un po' più di uno sportello informativo ed è anche uno sportello di assistenza, di collaborazione quindi non sono risorse né proprie né indirette che noi utilizziamo. Noi abbiamo messo a disposizione il personale, quindi risorse umane per fare questo ma l'idea è quella di rendere autonome le persone che si avvicinano per poi consentire loro di accedere alle risorse prevalentemente risorse, sono risorse europee attraverso chiaramente la regione ma sono prevalentemente risorse europee. Non mancherà tuttavia l'assistenza al sistema produttivo che riteniamo sia fondamentale per far questo stiamo cercando di trovare delle collaborazioni sia con le associazioni che rappresentano le imprese sia appunto come sportello direttamente assistiamo le imprese. E passiamo a parlare della sagra dei vini novelli di Milis. Stamattina col convegno tecnico dedicato alle valutazioni della commissione sommelier si è aperta l'edizione numero 28. La sagra organizzata da Proloquo e Comune di Milis ospita quest'anno 10 cantine. Stasera e domani le degustazioni sono previsti non meno di 30.000 brindisi e 4.000 bottiglie a disposizione. Nelle vie del centro storico sono già allestiti gli stents per le cantine ospiti con il percorso del gusto dedicato alle produzioni agroalimentari del territorio. Palazzo Boil sarà aperto per ospitare le mostre d'arte e quella del gioiello e del costume sardo. La sagra costituisce un primo banco di prova per il rilancio del vino novello in passato un'autentica scoperta per poi essere uffuscato dall'elevato numero delle etichette prodotte che ne hanno compromesso la qualità generale. E adesso invece sentiamo qual è la valutazione dell'associazione sommelier sull'annata 2015. L'annata 2015 ha due aspetti diciamo. Uno dal punto di vista produttivo purtroppo dobbiamo registrare un'ulteriore contrazione dei numeri dal punto di vista della produzione. Diciamo che siamo scesi del 15-20% rispetto alla produzione dello scorso anno. Peraltro invece se parliamo di qualità dei novelli quest'anno fortunatamente dobbiamo registrare una crescita della qualità del vino novello che finalmente è interpretato nella giusta maniera da tutte le cantine produttrici. In modo particolare c'è da notare che sono rimaste da prodotto novello le cantine che storicamente hanno sempre il prodotto novello dando un prodotto effettivamente di grande qualità. Sono dieci esattamente le cantine rimaste. C'è un allarme da parte vostra sul fatto che questa produzione prima o poi possa scomparire? Sì, è un allarme perché sarebbe un abbandono di una tipologia di vino che a nostro parere mantiene la sua degnità. Poi o piacere o non piacere ma si produce e si consuma in un periodo molto contenuto quindi dà ossigeno alle cantine. Il problema è fare un novello che abbia dignità di novello e che risponda alla tipologia perché il consumatore, gran parte della disaffezione del consumatore è dovuta purtroppo a delle produzioni assolutamente molto lontane dalla qualità. Inaugurata ieri a LACONI la Casa della Salute dedicata alla memoria di Teresa Sarti fondatrice dell'associazione Emergency insieme al marito Gino Strada La struttura unica nella provincia di Oristano sarà un punto di riferimento per tutto il Sarcidano e offrirà una risposta ai bisogni sanitari e sociali di un territorio che vive il dramma dello spopolamento ha affermato il commissario straordinario della ASL di Oristano Maria Giovanna Porcu Nata da un radicale restauro dell'ex poliambulatorio cittadino la Casa della Salute sperimenterà un modello di sanità innovativo al suo interno non solo specialisti ambulatoriali di continuità assistenziale ma anche medici di medicina generale che lavoreranno lasciando a disposizione del pubblico una copertura assistenziale H24 Ancora polemiche a distanza in comune a Macomertra maggioranza e opposizione si discute su alcune deleghe assessoriali Sentiamo per Gavino Vac Continua in qualche modo la polemica sulle dimissioni dell'assessore all'ambiente Gordini che non è stato sostituito dicono e le cui competenze sono state avvocate dal sindaco Succo Il fatto non nasce indifferente alle opposizioni che accusano il sindaco di bulimia di cariche considerando che è anche presidente dell'Unione dei Comuni del Margine e della conferenza dei sindaci del distrito sanitario In una interrogazione si adombra addirittura il sospetto che la mancata sostituzione sia dovuta alle ambizioni personali di tanti aspiranti alla carica Ma il documento va giù duro anche sul giudizio dell'operato della Giunta a metà del suo mandato che viene giudicato sconsolante nonché fallimentare sul proprio programma elettorale in materia di sviluppo economico e sociale oltre che scadente nell'amministrazione spicciola Una bocciatura senza appello dunque ma c'è di più Ancora il documento insinua che per soddisfare gli appetiti e le tante contraposizioni si vuole istituire un quinto assessorato Ma le accuse dell'opposizione non sono destinate a durare La notizia infatti è il ritorno sulla scena di due nomi già conosciuti Giovanni Lai che tornerà assessore all'ambiente al posto di Gordini e di Sergio Masia al posto di Gianfranco Conciu nel frattempo diventato consigliere regionale E siamo alla pagina della cultura si chiama Maurizio Martis Edi Cabras ha 36 anni ed è musicista con la passione del noir Il suo ultimo romanzo ambientato tra il sinis e la città di Oristano si intitola Sotto le ceneri del malvagio Allora conosciamo Romeglio È un romanzo noir mediterraneo perché comunque ci tenevo ad ambientarlo nella mia zona appunto di residenza dove vivo che vede appunto coinvolto un ispettore della questura di Oristano si chiama Romeo Scano e della sua squadra Sotto le ceneri del malvagio è un caso particolarmente complicato narra appunto le vicende di un serial killer anzi più di uno perché poi le vicende sono particolarmente complicate che la mente umana si evolve anche in peggio diciamo in episodi criminali che sfociano appunto in atti di particolare violenza e cruenza Insomma quindi un bel impegno di fantasia ci ha messo però soltanto un mese per scriverlo Allora per scrivere l'ultimo romanzo ci ho impiegato un mese ho scritto tutti i giorni anche alle 5 del mattino anzi colgo l'occasione per chi volesse scrivere eccetera scrivete quando ne avete voglia quando avete l'ispirazione forse anche alle 3 alle 4 del mattino vi svegliate di botto scrivete scrivete di getto poi le correzioni avverranno dopo e così è avvenuto anche per questo romanzo Bene con questo è davvero tutto vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento alle prossime edizioni arrivederci Grazie a tutti.